...della disoccupazione. Secondo ieri il comandante e il capo avranno avuto la giornata di questa approvata, lo diranno a tutti i soldati. Per ora l'ultima linea di regalo si assegna un indice di approvazione del 39%, non era mai genuto il 40%, mentre il 54% degli americani si dice è scontento nel suo operato. ...in finale di migliaia di giovani hanno invaduto le strade in aprile per l'anno stati ufficiati sia a fettura della venticinquesima giornata mondiale della città. ...una settimana di feste e preghiera sui spazi che l'anno, secondo gli operizzatori, più di un milione di ragazze arrivati dai cinque continenti, dove dire a vivo di vedere il 15esimo per una visita di quattro giorni nella capitale stancionale. Domani sera l'annunciata manifestazione di protetta promossa da più di cento associazioni di legge. E' Francesco Azzara, lavoratore di Emergenzi, rapito domenica scorsa nella scur e in buona salute e dovrà provocare ogni posizione di riscaldamento della città. ...lo ha detto a Amadiani Prolo, che il vice governatore della città, per ragione di valere, a Belcarino, il segnale di calabrese di 34 anni, era la sua seconda missione a mia capitale vestito dal puro nel centro pediatrico, Emergenzi, a verificare la città, talunzio del 2013. E siamo arrivati alla prova italiana, da tutt'ora dedicata alla settimana, un po' più importante per Salvatore Parolini, perché la prossima settimana sarà apportato dai tribunali dell'età, e l'unico basile, racconterà il suo ventaggio. ... ... Grazie.